La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo a premiare adesso l'eccellenza dell'anno innovazione e leadership, cambiamo assolutamente settore, formazione, ambito fiscale. Abbiamo parlato prima di fisco, vi ricorderete sicuramente, c'è un déjà vu. C'è un déjà vu. Esatto, the winner is Fiscal Focus. Per confermarsi un punto di riferimento come portale di informazione, formazione e consulenza per professionisti e aziende, per la capacità di costruire una piattaforma sempre più ricca di contenuti e aggiornamenti pratici, utili per i professionisti grazie a una visione pratica delle nozioni e ad esperti formatori all'ottimizzazione dei canali di comunicazione. Fiscal Focus. Esatto, un déjà vu. Eh sì, un abitue ormai del palco. Vero dottor? Grazie, complimenti. Do il benvenuto al dottor Antonio Gigliotti, fondatore e direttore di Fiscal Focus. Benvenuto. Grazie. Dottor Gigliotti, quest'anno avete riconfermato la vostra eccellenza e vi siete appunto riconfermati come punto di riferimento nella formazione in ambito fiscale. Ecco, le chiedo un commento a questo riconoscimento. Beh, intanto quando si ha un riconoscimento su quello che si fa è indubbiamente un fattore positivo che ci inorgoglisce e ci dà ulteriori stimoli per andare sempre avanti. È stato così anche l'anno scorso. È stato un po' un forse stimolo, non soltanto per me ovviamente, ma per tutti coloro che sono dietro le quinte e che sono quelli che effettivamente rendono possibile, non dico il miracolo che realizziamo tutti i giorni, ma le posso garantire che quello che facciamo tutti i giorni, della settimana, tutti i mesi dell'anno è effettivamente un qualcosa che se lo si fa con entusiasmo è certamente meno pesante di quando si lavora normalmente, quindi lavorare con entusiasmo e ovviamente questi riconoscimenti aumentano questo apprezzamento. Ecco, nel corso del tempo siete riusciti a creare ma soprattutto a fidelizzare un'ampia community di utenti. Ecco, le chiedo quali sono state le chiavi del vostro successo e quello che vi ha permesso di costruirvi una fiducia, una reputazione di alto livello. Beh, guardi, la mia storia insegna un po' il risultato che stiamo ottenendo oggi, nel senso che per più di vent'anni ho fatto il formatore e l'informatore e la formazione che ho fatto su tutto il territorio nazionale derivava per l'appunto da problematiche che personalmente vivevo all'interno dello studio, quindi io non ho mai parlato di un qualcosa perché l'avevo letta, ma perché mi c'ero già imbattuto, avevamo affrontato il problema e chi ti ascolta o chi praticamente viene, veniva nei corsi, capiva se era un qualcosa che avevo soltanto imparato a memoria o effettivamente parlava la loro stessa lingua. Ed è così anche un po' quindi nell'attività che abbiamo messo su nella redazione, cioè i nostri articoli non sono così messi perché quindi c'è quell'articolo, no, ma perché derivano proprio dagli spunti che tarriamo dai tantissimi casi che ci arrivano ogni giorno, quindi da chi ci segue, quindi hanno trovato in noi, un loro alleato, uno strumento operativo facile, perché guardi stiamo parlando di fisco e quindi quando si parla di fisco, di semplicità non è assolutamente niente per scontato, adesso in questi giorni si parla di riforma, sono 30 anni che ci dicono che vogliono semplificare il fisco, sarà la volta buona, staremo a vedere, certamente in 30 anni ben poco abbiamo visto di semplificazione e quindi dare delle informazioni semplici, soluzioni soprattutto ai problemi che sono infiniti quotidianamente, perché questo è il grosso del problema che ho anche sottoposto all'attenzione delle diverse interviste che spesso mi vengono fatte, vede non è mica vero che gli italiani sono un popolo di evasori, ovviamente c'è l'evasione, l'evasione è importante come numero, si arriva a circa stimata a 100 miliardi e quindi è ovvio che va perseguita e va combattuta, però c'è anche da dire che gran parte degli italiani le tasse li vogliono pagare, non è concepibile che vi siano delle difficoltà nel comprendere come pagarle, affrontare dei costi anche per poter quindi capire come pagare le imposte o per fare degli adempimenti inutili che spesso sono inutili di una burocrazia che tarda quindi a morire e a semplificare le aziende, cioè il contribuente vuole un fisco amico ma non nel non pagare le imposte, non deve essere un ostacolo, quindi delle norme semplici e chiare e tutti molto probabilmente cominciano seriamente a pagare le imposte. Ecco, voi mettete a disposizione tantissimi strumenti per la formazione dell'utente, si parla di percorsi di learning, podcast costruiti ad hoc, pillole esplicative e anche le opinioni di esperti. Ecco, le chiedo quali siano le vostre iniziative previste per il futuro e anche se avete intenzione di ampliare un po' la diffusione dei contenuti su altri mezzi di comunicazione anche per avvicinare un po' il pubblico più giovane a questi argomenti? Beh, guardi, noi siamo molto ma molto attenti a quello che è il mercato e soprattutto i cambiamenti del mercato, quindi l'evoluzione, l'innovazione, la digitalizzazione e noi quindi iniziamo a tenere informati e aggiornati i nostri lettori, i nostri ascoltatori già dalle 8 del mattino. Noi alle 8 del mattino iniziamo, ormai sono decenni, una rubrica che si chiama Caffè Cornetto dove alle 8 in diretta su Facebook gratuitamente, quindi diamo già tutta una serie di commenti a quelle che sono le notizie del momento e si inizia la giornata. Poi nel corso del giorno spesso, quindi durante la settimana, vi sono degli interventi assolutamente gratuiti, quindi con degli esperti della materia, quindi vi sono delle novità o delle problematiche, quindi sentiamo un po' quelli che rappresentano il massimo, quindi in quel settore per tentare di spiegare e poi come le diceva prima, quindi siamo fortemente interessati a tutta quella che è l'evoluzione e quindi il modo di seguire l'informazione. Non soltanto perché, vede, già soltanto quando io ho parlato prima di Facebook, Facebook quindi scientificamente ha accertato che la fascia quindi è dai 40 anni a salire, ma ovviamente c'è anche una certa fascia di soggetti che ci intende seguirci e magari non a Facebook, quindi abbiamo sviluppato anche altri canali che sono gli altri social, Instagram, anche su TikTok, ormai siamo decollati con tutta una serie di informazioni, ovviamente con degli esperti, dei relatori che si affacciano quindi a questo pubblico giovanile, in tal caso c'è quindi tra gli altri anche mio figlio, molto più giovane ovviamente, quindi che ha un linguaggio molto probabilmente un modo di esporsi, quindi che riesce ad essere compreso anche da chi ancora è diversamente giovane rispetto al sottoscritto, non lo è, ma è un vero giovane. Grazie e congratulazioni ancora. Grazie a voi.